MF Ecology, una vasta gamma di servizi offerti all'insegna dell'esperienza e della professionalità. Ci trovi a Cava dei Tirreni, in via Clemente Tafuri, numero 4. Nel pomeriggio di ieri si è svolto un incontro presso la Prefettura di Salerno alla presenza delle segreterie provinciali e delle RSU di CGLFP, UIL FPL e CSA. Per la parte pubblica erano presenti il Sindaco Vincenzo Napoli, il Comandante della Polizia Municipale, la segretaria generale Ornella Menna e la dirigente del settore personale. Le organizzazioni sindacali hanno esposto le motivazioni che hanno portato alla proclamazione dello stato di agitazione, evidenziando l'assenza dell'organizzazione sindacale di CISLFP al tavolo delle trattative. Il confronto, durato oltre due ore, ha permesso di ricostruire tutte le criticità emerse nell'ambito delle relazioni sindacali. Il Sindaco Vincenzo Napoli ha espresso la volontà di ristabilire corrette ed equilibrate relazioni sindacali, invitando la delegazione trattante di parte pubblica a riaprire tutti i tavoli di confronto necessari per risolvere le problematiche poste da CGL, CSA e UIL. Vincenzo Napoli ha inoltre sottolineato alla Prefettura l'importanza di un controllo funzionale della gestione del lungomare cittadino, stabilendo criteri per aumentare la sicurezza del personale della Polizia Municipale. A seguito del confronto, che ha evidenziato differenze e divisioni tra parte pubblica e sindacati, sono state raggiunte le seguenti intese. L'avvio delle procedure per l'attribuzione dei DEP, ovvero progressioni economiche orizzontali 2024, completamento delle assunzioni previste nel Piano Fabbisogno 2024, accelerazione della pubblicazione del bando di concorso per 45 agenti di Polizia Municipale, definizione e potenziamento servizi primavera-estate, confronto su carenza personale e servizi manutentivi, stabilizzazione del personale a tempo determinato e investimenti per la Polizia Municipale, come l'ammodernamento della centrale operativa e fornitura radioportatili e veicolari. La parte pubblica ha fortemente criticato la diffusione illegittima di documenti interni relativi alla proposta di deliberazione sulla parziale modifica atto di indirizzo. Pertanto, le organizzazioni sindacali hanno comunicato alla Prefettura e alla parte pubblica la sospensione temporanea dello stato di agitazione, in attesa di definire i contenuti dei prossimi incontri. Angelo Rispoli, segretario generale della CSA Salerno, è stato chiaro sul punto. Abbiamo ottenuto importanti impegni dalla parte pubblica su diverse questioni critiche e un passo avanti significativo per ristabilire una collaborazione costruttiva. La priorità resta il benessere dei lavoratori e il miglioramento delle condizioni lavorative. Confidiamo che i prossimi incontri portino a soluzioni concrete e condivise. Ha così concluso.